Oggi cominciamo la lettura di un testo molto importante che non si fa mai a scuola, che citiamo sempre anche in classe, eppure è alla base di tutta la letteratura, soprattutto quella provenzale, la poesia lirica, trovadorica, che ha influenzato poi la lirica anche italiana nel corso dei secoli e sto parlando del Trattato De Amore di Andrea Capellano, quel trattato appunto sull'amore, diviso in tre libri, fondamentale per comprendere più da vicino l'amor cortese, cioè l'amore tra l'uomo e la sua domina e la donna, la signora, la quale finalmente all'interno di questo rapporto amoroso si può liberare dalle catene sociali a cui era stata condannata e nella prigione in cui era stata relegata dalla società e qui finalmente può liberare tutta se stessa, quindi in fondo è anche un riscatto sociale per la donna che finalmente diventa libera. Attenzione perché troveremo anche delle pagine misogene che ci delineano un profilo molto diverso del pensiero di quell'epoca, di quella società, ma attenzione a non giudicare mai quel mondo con i nostri occhi e soprattutto dal nostro punto di vista, perché altrimenti commetteremo l'errore che fanno moltissimi, che è quello della cancel culture. Noi non dobbiamo dimenticare il nostro passato, è un monito, è comunque importante averlo sempre lì davanti perché ci ricorda quello che siamo stati e che soprattutto non dovremo mai più essere e ce lo insegna Primo Levi in persona, chi vive senza un passato è destinato poi a riviverlo. Uno dei trattati più importanti sull'amore in cui l'autore si rivolge a un certo Gualtieri e a cui indirizza quindi questo trattato. Carissimo Gualtieri, l'incessante affanno del tuo amore mi spinge a chiarire e a spiegarti con parole mie come l'amore possa mantenersi intatto tra gli amanti e come gli amanti non amati possano strapparsi i dardi di venere conficcati nel cuore. Quindi subito l'amore genera delle frecce, degli strali, quindi l'amore sarà sofferenza ma soprattutto schiavitù. Questo è innegabile, colui che ama la donna diventa il suo servitore, sarà costretto a svolgere quel servizium amoris di cui abbiamo tanto parlato a scuola e che tutti abbiamo studiato a liceo, però ecco non andiamo mai a fondo e quindi in queste lezioni andremo proprio a scavare, a leggere il testo perché è un'operazione davvero importante perché solo conoscendo quello che dice realmente l'autore possiamo capire più a fondo e quindi riflettere su questo argomento. Di amore se ne parla molto, vedremo che alcuni temi poi li ritroveremo anche in Giacomo Dalentini nella scuola siciliana quando parla di amor è un desio che venda core, anche lì verrà ripreso questo tipo di amore e soprattutto si aprirà il dibattito sull'origine dell'amore. Per gli antichi greci, per i romani naturalmente era esterna, era Cupido che scagliava le sue frecce facendo innamorare i mai capitati. Secondo invece questi autori e soprattutto per Giacomo Dalentini ma non solo per lui invece è un sentimento che nasce dal cuore, che nasce cioè in interiore omine, quindi una cosa innata con l'essere umano e arriveremo poi alla canzone manifesto al cor gentile Rempaira sempre amore di Guido Guinizelli. Tu dici che sei nuovo cavaliere d'amore e che ferito da nuova saetta, quindi di nuovo il tema della sofferenza, non sai governare il cavallo e non riesci a trovare un rimedio. Sento che è molto doloroso e mi rattrista in cuore e però mi mancano le parole per dirlo, quindi anche Andrea Capellano come boccaccio è mosso dalla compassione, dalla pietà nei confronti di questo Gualtieri che sta soffrendo. So e conosco per esperienza che soggiacendo alla schiavitù di Venere, quindi all'amore, l'amante non riesce seriamente a pensare a nient'altro se non ad escogitare con i suoi atti qualcosa per potersi incatenare di più alle catene d'amore. Crede che niente è bello se non piace alla persona amata, quindi davvero colui che ama non solo si sottomette totalmente al suo volere ma soprattutto desidera compiacere l'altra persona in tutto e per tutto e non gli piace nulla se non piace anche a lei. Nel tentativo di compiecerla in realtà viene sempre più avvolto ed intricato ed invischiato in queste catene che diventeranno un fardello sempre più opprimente. Anche se non sembra utile insistere su questo argomento e non conviene al saggio perdere tempo in simili cacce, quindi colui che è dotato di ragione, il vero saggio, soprattutto chi ne ha già fatto esperienza, non dovrebbe perdere tempo a correre dietro all'amore perché l'amore è fonte di atruci, di grandi dolori. Per l'affetto che mi lega a te, quindi di nuovo la pietà e l'amicizia, non posso in nessun modo oppormi alla tua richiesta e poiché più chiaro della luce so che il cammino nell'amore ti sarà più agevole se conoscerai la dottrina d'amore, farò di tutto per soddisfare la tua richiesta. Quindi bisogna conoscere la dottrina dell'amore, quindi capire che cosa sia, da dove provenga, perché conoscendolo posso anche in un certo modo affrontarlo in maniera più preparata, sarò sicuramente più attento, più accorto e forse potrò anche soffrire di meno. In questo trattato si fa davvero lo studio dell'amore, di tutte le sue caratteristiche e di come poi possa colpire le persone, in che modo si possano anche trovare dei rimedi per non soccombere in maniera molto sistematica. L'autore quindi si propone di capire esattamente che cosa sia l'amore, da dove provenga, quali siano i suoi effetti, tra chi possa esserci amore, come si conquisti e soprattutto come si possa conservare un amore, in che modo si rafforza, come si possa indebolire e soprattutto cosa, dice, deve fare uno degli amanti quando l'altro tradisce. Quindi veramente darà dei consigli anche pratici su ognuno di questi aspetti. Il primo è che cosa sia l'amore. Attenzione perché questa è davvero la definizione più importante, perché qui andiamo alla radice del problema. L'amore è una passione innata che procede per visione e per incessante pensiero di persona ad altro sesso. Quindi prima io devo vedere la persona amata nel momento stesso in cui io la vedo, la sua immagine attraverso gli occhi scende al cuore e si imprime lì e nessuno me la può più togliere di dosso, soprattutto se poi io continuo ad alimentare il mio desiderio attraverso il pensiero. Per cui si desidera soprattutto godere l'amplesso dell'altro, quindi l'obiettivo è puramente totalmente fisico, carnale, è un amore sessuale. I due amanti desiderano consumare il proprio rapporto e nell'amplesso realizzare concordemente tutti i precetti d'amore. Quindi qui non abbiamo nulla di metafisico, non c'è la donna angelo di Petrarca ma soprattutto che in realtà è ancora una creatura terrena perché Laura per quanto ideologizzata, per quanto trasfigurata, rimane pur sempre una creatura mortale, quindi in realtà è trascendentale, ha soltanto i topoi e non ha niente a che vedere con il dolce stil novo, soprattutto se parliamo di Dante, perché anche lì scopriremo che non sono tutti uguali. Per esempio Guido Cavalcanti si sofferma a descrivere gli effetti nefasti e tragici dell'amore, quindi i dolori, le sofferenze indicibili a cui porta questo sentimento, mentre in Dante troveremo proprio il superamento e ci parla di questo passaggio dal desiderio di avere la donna, di poterla vedere, ammirare o di riceverne il saluto, al tema della loda nella vita nuova, quindi ancora prima di arrivare alla Divina Commedia, quindi solo lì Beatrice diventerà iter ad deum, quel speculum dei, quindi semplicemente quell'intermediario, quel nuovo pontifex tra Dio e l'uomo, ma qui ancora no, è tutto interamente carnale. Che l'amore sia passione si vede facilmente, infatti prima che l'amore sbocci da tutte e due le parti, quindi da parte dell'uomo e della donna, non esiste angoscia maggiore perché l'amante teme sempre che l'amore non ottenga l'effetto desiderato e che siano inutili le sue fatiche. Quindi non solo l'amante ha paura una volta innamorato che l'altra persona poi si innamori di qualcun altro, quindi non solo il terrore di perdere l'amato, ma soprattutto il terrore di non riuscire in questa impresa. Quindi che cosa teme il povero amante, i pettegolezzi della gente, tutto ciò che gli può nuocere perché le cose non compiute vengono meno al più piccolo turbamento. Attenzione adesso a questo passaggio perché si parla della povertà. Se l'amante è povero teme che la donna disprezzi la sua povertà, quindi un povero difficilmente, pensavano all'epoca, potrà essere ricambiato soprattutto se la donna è più ricca, perché nessuno avrebbe sposato un poveraccio. Se è brutto teme da essere disprezzato per la sua bruttezza o che la donna si leghi a un altro più bello e questo mi sembra evidente. Se è ricco teme che la sua spilorceria di una volta possa danneggiarlo. Quindi davvero l'amante è lì che cerca in tutti i modi di capire come fare per raggiungere il suo obiettivo. Si dà una grandissima importanza alla bellezza, alla ricchezza e soprattutto ad evitare gli eccessi. Se avete fatto caso l'amante non deve essere né spilorcio, quindi avaro, ma soprattutto nemmeno prodigo perché se sperperasse tutto il suo denaro poi la donna lo abbandonerebbe. Per quello che ho detto che è una società anche misogina perché si attribuiscono alla donna tutta una serie di stereotipi, cioè si pensa che lei abbia determinati pregiudizi nei confronti degli uomini. A dire il vero non c'è nessuno che possa elencare le paure che sono proprie di ogni amante perché sono infinite. Le paure non diminuiscono perché l'uno e l'altro amante teme di perdere per le fatiche di un altro ciò che con molta fatica ha ottenuto. È ovvio quando io riesco ad avere la mia donna magari lei potrebbe innamorarsi di qualcun altro e viceversa. Poi c'è il passaggio chiave. È più doloroso perdere quanto si è ottenuto che essere spogliati della speranza di ottenere. Quindi secondo Andrea Capellano è peggiore perdere qualcosa che si era già ottenuto. Teme anche di offendere in qualche modo l'amante e sono tante le paure che è troppo difficile numerarle tutte, quindi non si può. Ti dimostro chiaramente che la passione è innata e come mai è innata? Poiché la passione non nasce da nessuna azione ma la passione procede dal solo pensiero che l'animo concepisce davanti alla visione. Non è più quello greco e romano, non è più esterno, non si incarna in una divinità ma è interiore perché io posso innamorarmi anche stando comodamente seduto senza neanche il bisogno di alzarmi il pensiero che alimenta il desiderio ossessivo. Quindi l'amore è in moderata cogitatio, questo pensiero fisso ossessivo continuo che non mi abbandona mai, che mi porta a non mangiare, a non bere e a non dormire più. Quando infatti uno vede una donna che corrisponde al suo amore che è bella, secondo il suo gusto, subito in cuor suo comincia a desiderarla, quindi quando uno nota una ragazza, un ragazzo molto bello e attraente, subito inizia a desiderarla, quindi a volerci stare insieme e quanto più la pensa tanto più arde d'amore. Comincia a pensare alle fattezze della donna, a riconoscere le sue membra, a immaginare i propri gesti e a frugare i segreti di quel corpo che desidera possedere tutto per il proprio piacere. L'obiettivo dell'innamoramento è la soddisfazione reciproca, ma poi che giunge al pensiero pieno l'amore non sa tenere il freno e passa subito ai fatti, subito si affanna a cercare complici e messaggeri, perché? Perché quando uno si innamora poi deve riuscire ad incontrarsi di nascosto, quindi deve ottenere un appuntamento e qui partono i messaggi, i messaggeri, le persone, i servi, le servitrici, che in qualche modo riescono a recapitare il messaggio e a chiedere luogo e il tempo giusto per parlare e un'ora gli pare un anno, perché non c'è nulla che possa subito saziare l'animo desideroso. È chiaro, anche un solo istante lontani dalla donna amata ci sembra un'eternità, dunque la passione innata procede da visione e da pensiero. Al sorgere dell'amore non basta il semplice pensiero, ma occorre che esso sia smisurato, ed è ovvio se io sono per strada, vedo passare un bel ragazzo, una bella ragazza, la noto e la guardo, ma poi tutto finisce lì, me la dimentico, quindi perché non me ne innamoro? Perché non continuo a pensarci, se invece ci penso, se subentra quella immoderata cogitazio e allora sì, tutto cambia, perché il pensiero misurato non torna insistentemente alla mente e da lì dunque non può sbocciare amore. Nella prossima chiacchierata vedremo tra chi può esserci amore, da dove amore prenda il nome, quindi capiremo meglio anche la definizione di amore e quali siano i suoi effetti. Nel corso del tempo quindi leggeremo tutto l'intero trattato, proseguiremo parallelamente anche con la Divina Commedia, quindi ci occuperemo soprattutto degli autori del 200. Ragioneremo insieme quindi sull'amore, sui suoi effetti e in quali modi la donna sia stata trasfigurata e trasformata da un semplice oggetto del desiderio sessuale fino ad arrivare alla donna angelo, a quell'intermediario, a quel contatto diretto tra l'uomo e Dio, tra la creatura e il proprio creatore. Di questo ci racconterà e ci insegnerà qualcosa Dante Alighieri nella vita nuova. Alla prossima lezione.